Subito dopo l'epifania, tutto il personale tornerà a riunirsi in un'assemblea per capire cosa fare sul fronte della mobilitazione. Il futuro dei lavoratori della provincia di Lucca, adesso, dipende in gran parte da cosa decideranno il presidente della regione Enrico Rossi e il Consiglio regionale. Intanto, con il vario della legge di stabilità negli ultimi giorni del 2014, i trasferimenti economici alla provincia per i servizi sono stati dimezzati e questo è il primo effetto della decisione del governo Renzi. Poi arriveranno anche quelli della legge del Rio. Entro la fine di marzo, infatti, dovrà essere pianificata la riorganizzazione delle competenze della provincia. Alcune dovranno essere assunte dalla regione, altre dai comuni, altre ancora confluiranno nell'ente provinciale di secondo livello. La ripartizione, anche dei lavoratori, che a Lucca sono circa 480, dovrà essere decisa, probabilmente con una legge regionale, ma il percorso dovrà essere guidato da una cabina di regia, sulla quale i sindacati non transigono. Il garante della trasparenza del percorso, nell'interesse di tutti i lavoratori, dovrà essere il prefetto. La riassegnazione dei lavoratori ai varienti, secondo Giovanna Lozopone, segretario provinciale della funzione pubblica della CGL, diventerà cosa delicata, che dovrà essere decisa dalla cabina di regia alla quale vogliamo prenda parte il prefetto a titolo di garanzia. Un passaggio che, prima della fine del 2015, dovrà portare al riassetto di tutto il meccanismo. Per i prossimi mesi, intanto, la provincia di Lucca continuerà, secondo quanto riferito dal presidente Baccelli, a garantire i servizi e quindi gli stipendi dei lavoratori, attraverso i fondi accantonati con la vendita delle azioni SALT, circa 15 milioni di euro.